Un abbraccio a Gossip News, ciao! La squadra è composta da Magalli, da me e da Marcello, quindi dal sabato alla domenica di Mezzogiorno in Famiglia siamo stati promossi e siamo passati a questo nuovo programma quotidiano. Spazi dedicati alla bellezza, alla salute, insomma ci dovete seguire perché è un programma ricco, 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 ricco di tante novità e di tante idee.